Lega e Movimento 5 Stelle hanno trovato un accordo sul decreto sblocca cantieri. La notizia viene riferita a metà pomeriggio da fonti del governo e precisata poco dopo in una nota congiunta dal capigruppo al Senato dei due partiti di maggioranza, Massimiliano Romeo, Lega e Stefano Patuanelli 5 Stelle, che si dicono soddisfatti. Il nodo da superare era lo stop di due anni richiesto dalla Lega al codice degli appalti. L'ostacolo è stato aggirato con uno stop parziale di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti per due anni e con il mantenimento delle norme già in vigore per i subappalti. Lo sblocco del decreto, che sarà votato in aula al Senato domani, avviene a seguito di una telefonata tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, definita lunga e cordiale in un clima positivo. Un colloquio che segna la ripresa del confronto diretto fra i due leader del governo giallo-verde all'indomani della conferenza stampa ultimatum del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale oggi aveva lanciato un appello alla Lega. C'è questo, diciamo così, superavendamento degli amici della Lega. Ho cercato di rappresentare loro, che mancano mai pochissimi giorni per la conversione. Siamo al Senato, dobbiamo passare alla Camera.